Oggi andremo a vedere su grande richiesta di tantissimi di voi come arrivare all'abisso tra le radici che è la nota, ed ormai conosciutissima mi secca ammetterlo, zona segreta di Elden Ring. Questo è un video più mirato a dei giocatori novizi ragazzi che non hanno esplorato appieno il mondo di Elden Ring e che magari non hanno mai scoperto dell'esistenza di questa zona. Se siete dei giocatori veterani mi dispiace, siamo semplicemente per parlare della zona in cui troveremo tantissime cose e formiche soprattutto. La zona segreta di Elden Ring si può raggiungere dalla zona superiore del fiume Siofra. E vi direte, ma come cavolo ci arrivo? Ed è una giusta domanda perché effettivamente non è semplice. Per poter accedere a questa zona del gioco dovremo innanzitutto aver sconfitto il generale Radana ragazzi. Il generale Radana una volta deceduto tornerà a far muovere le stelle perché il suo potere morirà con lui e dalle stelle verrà un enorme meteorite che aprirà un buco. Questo buco ci permetterà di entrare a Nokron ragazzi e potremo finalmente esplorare un nuovo posto nel sottosuolo. Una volta giunti alla battaglia del boss lacrima riflessa ragazzi che è semplicissimo da battere con un semplice trucco fatemi sapere nei commenti se volete effettivamente sapere come si può battere facilmente questo boss. E a tal proposito ragazzi già che ci siete iscrivetevi al canale è gratificante per noi e di enorme supporto e a voi non costa niente. E se volete supportarci a pieno ragazzi qua sotto in descrizione trovate tutto quello che vi serve per super grazie ed abbonamenti. E non dimenticate ovviamente di accendere la campanella in modo da rimanere aggiornati sull'uscita di ogni video. Una volta che avrete sconfitto la lacrima riflessa ragazzi il percorso da fare è quello che vedrete a schermo. Starà a voi decidere se eliminare la marea di nemici che si trovano nella zona oppure se decidere di andare avanti tranquillamente come ho fatto io evitando lo scontro. Dovrete procedere per tutto il percorso non è lunghissimo potrete affrontarlo su torrente. Io vi consiglio ovviamente se è la vostra prima volta in questa zona ragazzi di esplorare tutto anche perché in questa zona proprio come nella zona sotto del fiume Siofra troviamo i falò da accendere per un eventuale boss fight. Ma lasciamo perdere l'esplorazione quella vedrete voi se vorrete farla. Voi siete qua per il percorso e lo state vedendo effettivamente a schermo. Una volta che avremo davanti a noi la struttura dell'acquedotto quindi una struttura che scende dalle rocce come se costruita al contrario tra l'altro bellissima da vedere noteremo che c'è un percorso nascosto su delle rocce in basso. Se lo seguiamo troveremo una grazia e poco più avanti l'accesso all'acquedotto. E qua ragazzi la situazione si complica perché la zona è ricca e densa di cavalieri del corgiolo e mostri non propriamente simpatici. Però se volete arrivare a questo tracotante paradiso di beltà a cui tanto mirate e che molti di voi non conoscono questo è quello che dovete fare. Avanzate ancora seguendo il percorso che vi mostro a schermo fino a che non arriverete ad una scalinata. E qui arrivano i cali. Nel senso che vi troverete davanti a una boss fight in cui affronterete due nemici assieme, i due gargoyle. Dovrete in primis combatterne uno e poi quando arriverà più o meno al 50% di vita ragazzi scenderà anche l'altro. Fate il vostro meglio, usate tutti i vantaggi che potete ed una volta che avrete battuto questi due boss potrete raggiungere la zona successiva ragazzi. Di fatti se guardiamo in fondo all'arena vedremo che c'è una bara e faremo la cosa che nessuno farebbe. Stenderci nella bara. La bara si attiverà magicamente e ci porterà in un posto magico. Ossia la zona dell'abisso tra le radici ragazzi. Qui potrete trovare una farm di rune che vi ho portato da poco, altre farm di rune complicatissime in cui il parkour è un must e che io odio totalmente. E ovviamente un boss davvero particolare e seguirete così anche delle quest ragazzi. Non voglio farvi troppi spoiler quindi smetterò qui di raccontarvi di questa zona. Esploratevela, divertitevi e godetevela ragazzi. La vostra prima run in Elden Ring è l'unica e sarà sempre una magia a scoprire nuove cose. Quindi date il meglio di voi. Sembrerà brutto da dire ma rimpiango la mia prima run. È stata ricca di emozioni che adesso è il gioco. Purtroppo non mi può più dare perché logicamente l'ho esplorato al massimo ed avendolo esplorato sotto ogni aspetto è diventato un peletto più monotono. Sempre bellissimo ma non offre più la magia che offriva la prima run. Noi ci vediamo in un prossimo video ragazzi, voi non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like ed un commentino con la vostra opinione. E se volete supportarci a pieno ragazzi troverete qui sotto anche il link agli abbonamenti e dei super grazie. Mi raccomando accendete la campanella ed in questo modo rimarrete aggiornati su tutti i video che escono, che vi possono interessare ragazzi. Soprattutto se siete dei giocatori novizi. Ciao a tutti. Soprattutto se siete dei giocatori.